buongiorno noi siamo qui e com'è che si chiama qua calamblanes ah calamblanes perché abbiamo io e andre la mezza libera abbiamo una mezza giornata insomma vabbè la mattinata sì la mattinata mattinata libera e abbiamo deciso di andare a fare colazione se troviamo un bar se andiamo di là ecco senza che ci butti e no direi di no e quindi faremo colazione dove troviamo e poi riuscire a fare un po di compre un po di cose un po di sfizzi da togliere si si vado a comprare un lacino per i capelli compre serie il lacino per i capelli e poi un paio di jeans non strappati a un paio di jeans non strappati che non si può avere in stagione sapendo questa cosa mi sono portati tutti strappati non c'è ne manco uno è sbagliato tutti aperti ecco ecco e quindi noi andiamo gli arrivano un miliardo di messaggi un istante ogni secondo ogni ora del giorno e della notte anche è chiaro e quindi facciamo colazione e poi ci faremo vedere che colazione facciamo va bene sono ancora più di là che di qua ragazzi sto ancora in coma l'occhiale non si alza fino alle tre e mezza oggi va bene adesso guardiamo un po di cosa si mangia grosse grossissime troverai all'aeroporto gente con queste specie di piramidi sono fatte da sono sempre io sono fatte in forma esagonale ok sono più piccoli sono confezionate con questi nastrini sono una specie di piramide verrà molta gente in giro questi cazzi si portano in giro queste fai vedere queste è in sei madame non è tipico di solo del di minorca ma di tutta quanta la spagna e poi se ne vedete in giro venite qui in spagna provate in sei madame in sei madame va bene ok grazie 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 giuseppe grazie il cappuccino eccolo qua al vetro ecco ma il pacco l'hai aperto l'hanno aperto si l'hanno aperto ah ok perfetto è nulla tanta roba sono contento non vedo la carina è contento c'ha tutte le magliette di ultimo ora è a posto chi è ultimo è ultimo il cantante che ha vinto il festival di sanremo diciamo l'ultimo l'ha vinto si è la mia ultimo la parte dei primi la parte dei primi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti